mister come sta la squadra dal punto di vista mentale e se durante gli allenamenti di questa settimana ha potuto lavorare su questo aspetto ma la squadra sta bene sta bene siamo consapevoli del fatto che ancora una volta abbiamo lasciato dei punti in giro ma purtroppo questa è una nostra prerogativa almeno da quando sono qua io ci stiamo lavorando ci lavoriamo però devo dire che la squadra sta bene purtroppo poi come tutte le partite quando subiamo gol andiamo un po' in difficoltà perché comunque siamo costretti a rincorrere e questa sono sicuro che la nostra più grande difficoltà dobbiamo essere bravi anche nel caso in cui dobbiamo andare sotto a rimanere compatte uniti come e continuare a giocare come stiamo facendo come abbiamo fatto per lunghi tratti in tutte le partite la disposizione tattica a crotone nei primi 60 minuti ha dato ottimi risultati e presuppone la presenza di ghiallo dovendo domani conquistare tre punti fondamentali potremmo vedere fin dall'inizio tre attaccanti ma la domenica abbiamo fatto molto bene abbiamo giocato un attaccante solo per cui non penso sia un problema di attaccanti o due attaccanti o tre attaccanti comunque noi abbiamo sempre giocato con minimo due attaccanti purtroppo poi dopo anche domenica durante la gara siamo stati costretti a fare dei cambi forzati perché abbiamo avuto marenco che era tanto non giocava con i crampi e rabbio che era forse più di un anno che non giocava con i crampi lo stesso iallov avevano di non cimento e non l'ensimento muscolare per cui siamo siamo stati costretti a fare i cambi e questo non ci ha giovato è ovvio che avendo giallo in squadra hai una caratteristica diversa che con altri giocatori non hai sarà possibile domani vedere impiegati andreis e nesta oltre che agli allo tanto andres è fuori perché ha fatto una distruzione qui per quanto riguarda nesta e dialog vediamo non ho dato ancora la formazione ai ragazzi perché l'ho visti bene per cui non ho voluto dare certezza a nessuno ma almeno domani sono sicuro che arriveranno pronti per la gara abbiamo visto come con le grandi la viterbesi si esalti ma serve forse un po più di continuità per portare domani i tre punti a casa ma guarda io che la viterbesi si salte contro le grandi non è non è vero la viterbesi gioca bene contro chiunque e questo l'abbiamo dimostrato a potenza foggia e l'abbiamo dimostrato in tutte le partite per cui la viterbesi gioca un buon calcio il problema della viterbesi è che dobbiamo rincorrere e recuperare punti sulle altre e qui subentra lo stato mentale che subesta l'ansia l'angoscia di dover recuperare i risultati ma la viterbesi per lo meno da quando ci sono io ha sempre fatto delle partite buone molto buone più delle altre squadre evidente che abbiamo dei problemi